Sì ragazzi, benvenuti su un nuovo video di Vittoria Uni Oggi siamo qui per imparare anche questo Abbiamo imparato la chitarra, ora impariamo questo Questo qua non ha nessun colore, però questo è un suono forte Un suono fortissimo, è troppo bello da suonare Però è anche rilassante Può essere rilassante, però anche è un suono Questo suono è acuto, perché è chiaro, perché lui è tranquillo Questo suono è tranquillo, questo suono Sentite? Questo è molto chiaro È rilassante, è molto bello Tutti questi suoni ci sono sempre più chiari Questo è troppo, questo è molto chiaro Questo è più bello, guarda Questo è bellissimo, questo è terribile Però è anche piano, è tranquillo E' bellissimo E' anche acuto, è terribile Questo è terribile, questo Perché suona troppo questo Bello, no? Ok Se volete alcuni di questo Allora Questa chitarra dovete impararla a memoria Perché? Perché questa chitarra può essere Se voi, se volete essere cantanti Se volete suonare questa chitarra potete Però dovete imparare Dovete imparare tutti gli strumenti Dovete imparare la chitarra, la pianoforte La batteria Tutti gli strumenti che ci sono E dovete impararli Purtroppo è così Ci sono alcuni che non li cantano strumenti di batteria E alcuni che vogliono suonare i pianoforte Come me E poi anche che io voglio suonare i pianoforte Perché i pianoforti io lo so fare L'avete visto Voi avete visto che io so fare i pianoforte Perché io vi ho fatto vedere come so suonare Ora, adesso Se volete imparare a fare tutti questi strumenti Dovete impararli a memoria Giusti Così accanto in un concerto Li potete suonare Se avete tempo Quindi Ciao, mi raccomando Stivatevi al canale Vittoria Uni E mettete like Ok? Ciao Ciao